Assessore Casi, il PD ha sollevato la questione del parco di via Acuto, quasi pronto, sostanzialmente bello, fresco, pieno di giochi, però non ancora inaugurato e loro chiedevano di sapere quando, visto che comunque se viene lasciato così poi ricresce l'erbato. Sì, venerdì è stato fatto l'ultimo sopralluogo da parte dei tecnici dell'amministrazione comunale con la ditta per definire tutti gli interventi che sono stati eseguiti a seguito del secondo collaudo nel luogo oggetto della presentazione. Con questo sopralluogo abbiamo definito che sono state eseguite anche le ultime lavorazioni richieste e quindi l'ultimo collaudo che verrà eseguito il giorno 17 di questo mese darà finalmente la risposta che tutti cercano, ovvero che i lavori sono stati eseguiti, che sono stati eseguiti correttamente rispetto a quelle che erano anche le progettazioni richieste e quindi potremo aprire insieme al gestore che già dalla prossima settimana entrerà e inizierà a installare le proprie attrezzature e quindi credo che a brevissimo riusciremo a fare questa inaugurazione che da tempo i cittadini ci richiedono, che giustamente vogliono anche in un periodo estivo, vogliono vivere, vogliono stare in una zona nuova che ha anche delle nuove attrezzature. Ricordiamo che lì abbiamo anche una zona proprio dedicata alle persone non vedenti, quindi potranno accedere a questo parco, potranno viverlo e grazie anche alla figura che ci estirà poi dopo il parco sarà ulteriormente fruibile anche per la zona sportiva.